Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 prima di iniziare un paio di cosette. Intanto un grandissimo ringraziamento a Nicola Monachello che proprio pochi minuti fa, poco prima che iniziasse a registrare questo episodio, si è aggiunto al novelo dei miei patrons, quindi grazie davvero Nicola, proprio al volo l'ho aggiunto qua in apertura di episodio. Seconda cosa, lo anticipavo nella scorsa puntata ma adesso posso dare info più precise anche se molto a ridosso dell'evento. Questa sera, per chi ascolta questo episodio proprio nel giorno in cui viene pubblicato, quindi venerdì 22 marzo, tra l'altro mi hanno fatto notare che la puntata scorsa ho detto aprile ma invece è marzo, stasera insomma sarò a Rio Maggiore, una delle cinque terre per i non local, alla presentazione di Shacketrail, sarò un po' una sorta di presentatore barra speaker della serata e soprattutto presenterò i primi partenti della nuovissima edizione della 100 km che partirà proprio questa sera quando uscirà l'episodio a mezzanotte. Sono devo dire emozionato sinceramente perché poi non ho mai fatto nulla del genere, di solito registro cose nella mia cameretta però sono anche al tempo stesso onorato di essere stato chiamato per questo evento che ho personalmente molto a cuore anche se non l'ho mai corso per varie sfighe di estrazioni varie, perlomeno in gara, poi in realtà conosco questi sentieri delle zone praticamente a memoria dato che sono spesso teatro dei miei allenamenti. Il giorno dopo giusto per non farmi mancare niente sarò presumibilmente anche un ristoro a dare una mano probabilmente a quello del chilometro 81 a recuperare i detonati a pochi chilometri dalla fine e dargli un calcio per arrivare fino in fondo. Quindi oltre a esternarvi adesso la mia gioia per questa cosa lo so che il preavviso è nullo ma se per caso ci sarete salutatemi ad ogni modo penso che poi successivamente racconterò in uno dei prossimi episodi questa mia esperienza. Nel mentre potrete anche penso seguire sui social instagram in primis qualche aggiornamento live da rio maggiore dintorni che se riuscirò farò. Ma adesso veniamo all'argomento principe della puntata. Quando ho iniziato a correre da bravo neofita non avevo la minima idea di cosa fossero gli allunghi e per tanti anni non ne ho fatto manco mezzo. Poi soprattutto quando ho iniziato a farmi invece seguire da un coach mi sono ritrovato in tabella lì strides cioè appunto gli allunghi e gioco forza ho iniziato ad eseguirli. E ora anche lato mio coach io per primo appunto li vado ad inserire al termine di alcune sessioni di allenamento. Ed allora credo sia bene parlarne per chi come me qualche anno fa soprattutto non sapeva nemmeno che esistessero. Cerchiamo di capire esattamente che cosa sono quando ha senso farli perché vanno fatti e come eseguirli nel modo più corretto. Anche perché mi è pure capitato magari su strava nell'attività di qualcuno di vederli fatti completamente in momenti random dell'allenamento o comunque eseguiti male a livello di impegno profuso. Partiamo intanto insomma dal definirli perché soprattutto non vanno confusi con degli scatti alla morte o con delle ripetute fartlek o altri lavori ad intervalli. Quindi cosa sono gli allunghi? Come dice anche in buona parte se vogliamo il nome stesso sono delle progressioni quindi non degli scatti secchi. Si corre aumentando il passo gradualmente fino a raggiungere una discreta velocità solo nell'ultima parte e questa velocità poi raggiunta va mantenuta per qualche secondo fino al termine dell'allungo stesso. Le strides sono una delle tante andature che caratterizzano la corsa. Servono principalmente per dare brillantezza alle gambe dopo una seduta di corsa lenta a volte anche lunga o alla fine del riscaldamento prima di allenamenti di qualità o di gare. Come già detto non vanno confusi con altre tipologie di esercizi o specialmente quelli di qualità. Non li farà poi solamente un runner evoluto ma in realtà anche i principianti possono otterrarne vari benefici calcolandoli e dosandoli nel modo corretto. Ma perché farli? Come accennavo si possono fare in diversi momenti a seconda poi di quando si eseguono cambia anche la motivazione che c'è dietro. Ad esempio fare gli allunghi dopo aver corso lentamente aiuta a restituire elasticità muscolare, a stimolare l'attivazione delle fibre rapide, ad ampliare gli angoli di movimento fungendo da una forma di stretching dinamico post allenamento tranquillo per intenderci, riducendo anche i tempi di recupero in preparazione dell'attività successiva. Servono a lasciare il muscolo pronto insomma a riscostruire ed evitare quella sensazione di pesantezza che a volte arriva anche dopo aver corso a bassi ritmi. Sempre in quest'ottica si possono fare pure il giorno successivo ad una sessione molto lunga e lenta, quindi i classici lunghi pre-maratona ad esempio, con lo stesso obiettivo di recuperare meglio e dare un po' di brillantezza alle gambe. Se si usano in questa situazione comunque prima ci sarà da fare ugualmente un po' di corsa lenta facile facile per non andare a sollecitare le gambe stanche dalla seduta precedente a freddo. Inoltre sono anche un buon esercizio per banalmente migliorare la tecnica di corsa. Nei pochi secondi della loro esecuzione, oltre a favorire l'adozione della corretta postura tecnica di corsa, incentivano lo sviluppo di spinta e appoggio, oltre che l'uso corretto delle braccia. Infine si possono fare in un altro momento, cioè prima di scannellare, cioè eseguiti alla fine di un riscaldamento, fatto principalmente sì in quel momento da corsa lenta, ma prima di fare delle ripetute o partecipare ad una gara. Quali allunghi invece contribuiscono ad aumentare la temperatura corporea, a predisporre insomma all'organismo allo sforzo intenso imminente e a preparare in buona sostanza le gambe affinché siano pronte per un'azione tecnica impegnativa che si dovrà intraprendere a breve andando anche a risvegliare, passatemi il termine, le fibre veloci. Semplificando e involgarendo il tutto potremmo dire che ci aiutano a spezzare il fiato prima di uno sforzo intenso. Visto che poi personalmente ormai lo sapete sono un amante degli studi scientifici, vi lascio pure nelle note dell'episodio e link ad una ricerca eseguita dall'università di copenhagen che ha dimostrato come inserire nelle proprie corse degli allunghi porti proprio a miglioramenti delle performance dal 3 al 6 per cento su distanze fino ai 10 chilometri. Come già detto non sono né ripetute né sprint ma piuttosto delle brevi corse in progressione in pianura. Si parte correndo poco più rapidi della classica corsa lenta e si cresce costantemente fino a raggiungere idealmente nella seconda parte la velocità più intensa comunque un ritmo importante ma non massimale. A prescindere che li si faccia nel riscaldamento o al termine della seduta l'esecuzione non cambia. Devono essere sempre corsi in massima scioltezza e decontrazione. Ci sono poi tre caratteristiche sostanzialmente da curare quantità lunghezza ed intensità. Partiamo dal quanto devono essere lunghi. La loro peculiarità che li differenzia da tutti gli altri mezzi di allenamento è sicuramente la durata. Gli allunghi rispetto alle classiche ripetute sono molto corti e dovrebbero avere una durata di 20 o 30 secondi oppure lunghezze che variano tra i 50 e i 100 metri usando però appunto la distanza come parametro di misura. Il recupero tra uno a lungo e l'altro è minimo minimo della stessa durata o qualcosa in più. Per esempio con strides da 30 secondi ci potrebbe essere una fase di recupero con corsa facile da minimo altrettanti 30 secondi oppure da un minuto anche due minuti. Un principiante in realtà potrebbe farli camminando questi minuti mentre un runner più evoluto li trascorrerà correndo lentamente. Quanti farne? Molto dipende dal vostro livello di preparazione e anche dal tipo di attività che si è fatta prima o che si farà successivamente. Diciamo che il numero minimo solitamente è 3 ma si può arrivare anche a 10-12 per gli atleti più evoluti. La logica ci dice che se si fanno al termine di un allenamento più questo è stato lungo e più si faranno numericamente a lunghi. Discorso simile per quando li si eseguono nella fase di riscaldamento in ottica workout o una gara con l'accortezza magari di fare i primi leggermente più lenti e gli ultimi a ritmo vicino a quello della gara o proprio a quel passo lì. Ma poi del ritmo adesso ne parliamo meglio. Quindi a che velocità correrli? È difficile in senso assoluto individuare delle andature precise da indicare anche perché essendo molto brevi non ci si può nemmeno aiutare con l'orologio gps che non fa in tempo a darci delle indicazioni precise. Ha maggior ragione perché si tratta di una progressione dove crescere man mano con il ritmo e invece non è una corsa a passo costante per tutto il tempo. La cosa più importante comunque ancora prima del singolo dato di passo al chilometro è di farli correndo in modo sciolto con una sorta di spinta controllata tra virgolette muovendo tutto il corpo gambe e braccia completamente di contratti. Comunque dato che vi conosco e che volete la ricetta da seguire precisamente provo a darvi qualche informazione più dettagliata. Intanto non sono uno scatto da eseguire al 100% delle vostre possibilità. Come già ripetuto più volte si tratta di aumentare con gradualità lo sforzo man mano che si procede con l'allungo. Il ritmo raggiunto massimo sarà veloce ma sostenibile senza arrivare proprio alla morte. I primi metri saranno poco di più di una corsa easy poi si aumenterà o si aumenterà o si aumenterà senza però scattinetti ma in modo costante fino a raggiungere uno sforzo idealmente attorno all'80 85 per cento della vostra capacità massimo o poco di più massimo massimo 90 per cento insomma. Passo poi da mantenere costante in questo caso sì fino al termine del tempo dei metri prefissati per concludere l'allungo. Tuttavia se si facessero prima di un workout di qualità o di una gara gli ultimi della sequenza lo accennavo anche prima si potrebbero correre chiudendo la fase attiva con un passo al chilometro simile a quello che poi si presume si terrà successivamente. Ad ogni modo come ripeto molto di frequente qua dentro anche in altre occasioni e situazioni fatevi guidare soprattutto dalle vostre sensazioni e ascoltate il vostro corpo non esagerate. Per concludere giusto un paio di note e considerazioni al volo come detto in precedenza durante gli strides concentratevi anche sulla tecnica di corsa sull'appoggio sulla postura senza fissarvi esclusivamente sulla velocità anche perché quella verrà da sé con il tempo e proprio con una corsa corretta. Non inserite gli allunghi comunque sempre in tutti gli allenamenti ci sono volte dove ad esempio bisogna solo correre piano per recuperare ad esempio se quindi ci sono 40 minuti di corsa lentissima rigenerante in tabella non ha senso farli. Diciamo che un giusto dosaggio può essere una due o tre volte a settimana anche in base a quanti allenamenti settimanali fate. Riassumendo tutto quanto detto quest'oggi gli allunghi possono portare dei benefici ai runner in primis aiutano il recupero e ci predispongono per correre al meglio sedute impegnative e poi migliorano la tecnica la biomeccanica e l'economicità del gesto andando così di conseguenza da crescere anche le nostre prestazioni. Si possono inserire senza difficoltà nel riscaldamento pre workout o in conclusione ad una corsa lenta dato che occupano oltretutto veramente pochi pochi minuti. Magari non saranno l'allenamento principe più importante del running tutto ma io stesso nel tempo ho imparato ad apprezzarli e anche a capirne l'utilità e dovreste farlo anche voi anzi provate se non li fate e poi mi saprete dire. A proposito scrivetemi proprio su telegram al mio account privato chiocciola lorenzo maggiani se li fate come vi trovate con gli allunghi e in generale scrivetemi anche via mail o su instagram seguitemi su instagram trovate tutti i miei recapiti nelle note dell'episodio. Inoltre vi ricordo di lasciare recensione a 5 stelline su spotify apple podcast seguire questo podcast condividerlo con il mondo e infine per darmi una mano a portare avanti questo progetto così come ha fatto nicola che ringrazio ulteriormente sempre nelle note c'è il link per una donazione su paypal o bei mia coffee una tantum oppure appunto come nicola tramite patreon direi che per oggi è veramente tutto puntata corta ma densa di informazioni cari runners se non avete mai fatto gli allunghi dovete assolutamente provare e inserirli nei vostri programmi ci sentiamo alla prossima puntata